Azione! Non è un film su dei supereroi, ma è un film su degli uomini che fanno i poliziotti e che però hanno delle debolezze. Queste debolezze poi le vincono attraverso degli incontri che cambieranno la loro vita. Gli intenti erano quelli di raccontare degli elementi universali, quindi l'amore, il tradimento, la sofferenza, l'amicizia. E partendo da questo abbiamo scelto piano piano, attraverso delle lunghe discussioni, attraverso quale genere raccontarlo questo. E ci è sembrato il poliziesco il genere più adatto. Vai, azione! In questo film l'amore è raccontato attraverso due incontri. L'incontro di uno dei due poliziotti interpretato da Cerlino con un cane, che gli cambierà completamente la vita. Dall'altro lato c'è un amore per una donna da parte di Michele Riondino. Di mio c'è tutto. L'amore per il cinema, per questo genere di cinema, per il cinema melodrammatico, d'azione. Il cinema americano, il cinema di Hong Kong, il cinema di Michael Mann, il cinema di Abel Ferrara, il cinema di Sue Yark, di Wong Kar-wai. Nel film, in realtà nei personaggi del film ci sono io, chiaramente. questo film è un po' molto più grave. Grazie a tutti.